ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video perché questo video strano che vi sembra un video normale perché abbiamo una persona davanti a noi sul roblox che è molto speciale nico saluta i ragazzi nico saluta i ragazzi perché sto registrando un video allora perfetto 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 partiamo bene oggi siamo con nico 0 75 ok beh raga vi va bene volevate amirone volevate sarah volevate josu volevate qualcuno chi voleva allora ragazzi oggi vi ho portato informare di una cosa se volete voi allora io ho già finito questa mappa perché l'ho già giocata più malianto e figurati è lunga a un botto il trappole una e addirittura dio no se ho fatto morire nico mi dispiace no guarda spariscono le scale ciao nico ciao attento ma quanto è lungo e vedi io però l'ho finita dopo un po di giorni l'ho finita quanto è lungo vai nico ci sei no c'è solo quella tizia nico 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 esisti nico esisti nico 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 e noi 6 che ti ha importa poi parti nella dobbiamo aspettare proprio amici si aspetta eccolo dove dove è andato via c'è 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 ancora scusi ciao nico ciao nico no si 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 raga sta andando bene sto adesso puoi andare si no 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 che delusione no 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 raga un attimo che lo videochiamo solo un attimo fa è morto tanto lui è morto bene attimo che sto il telefono che per invitarlo e videochiamarlo devo scendere la porta ormai è la gialla si vai nella gialla si un attimo raga lo sto cercando si è la gialla vai nella verde nel verde so e vai nella gialla no no allora no raga non ce la faccio devo allora giallo stai un attimo fermo ti dico i colori giallo verde ok dovremmo esserci lo sto chiamando come sentite si sta chiamando verde verde è vero giallo giallo nico giallo nico 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 ci sei di nuovo papà ti passo la mamma un attimo nico 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 n che volevo fare un video con nico si verde 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 adesso adesso blu 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 bravo adesso prova il giallo giallo ce l'abbiamo fatta nico non sono riuscito a chiamarlo ragazzi col mio telefono anche col mio telefono non ha risposto ragazzi no dove sei è uscito dalla mappa e no attivo ma c'è ancora attento faccio questa parte dove sei allora ci sei ok ti voglio dire una cosa che te l'importa nico vai avanti è il mio miglior amico il mio miglior anico tanto sai che c'è no se magari era mir capito sai perché era mir aveva la skin con la maglietta nera i capelli a crosta arancioni ah ma so chi è è il fratello di jo t'ho aspettato per quelle jo il fratello di jo qualcuno dei miei amici comunque altrimenti non ti avrebbe mai aspettato no forse è diventato mio amico mi stava così simpatico mi conoscevo mio non lo conoscevo ma perché ti metti fk per ciò fai si bravo non sei bravo forza un idiota tanto non si è bloccato lì in mezzo e ciò fai salta nico devi saltare ciao ciao però devi saltare salta 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 vai se cade all'ultimo non ci credo mi levo no no hai portato la sfiga no sì no vieni vieni no sì no sì data non cadere no cerchiolini cerchiolini no dai 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 ma perché mi vuoi dire dico mai capito qual è il salto l'hai capito no dico qua devi fare solo così capito non ha capito niente non ha capito niente non ha capito niente ragazzi voi avete sentito cosa ho detto ho detto cazzo salta sempre salta sempre salta sempre con spermario salta salta vedi quel vedi quella cosa stai dicendo nico dico ma stai scrivendo perché se li fermo da mezz'ora vado avanti vado avanti vado avanti vado avanti vado avanti non aspettarlo cioè vai ma no no che ho un buon mico lo aspetteresti o andresti avanti i miei sono nico 0 nico nico trattino basso no che bello poi si arriva lo scivolo e antono non sai quanto è bello quando arriva lo scivolo non sai quanto è bello è troppo divertente ciao si sei vivo guarda ciao non sono a pensare quando sono qui ad aspettarti da un anno sono qui ad aspettarti da un anno non ti bloccare in mezzo al cacchio finisci finisci cadete sonico giuro che non sei più mio mio amico ma stava volando in almeno è semplicissimo è semplicissimo e lui riesce a cadere comunque è semplice è semplice basta camminare saltare qui sparisce no cosa ti do un consiglio da partello sparisce vieni 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 corri 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 bravo adesso adesso non calmo non sparisce ma cosa questo che bello che bello no no non è sempre più quindi come morire a 300 volte no che non è successo eh è sparito troppo un personaggio di integrante no che sono un laser bravo lui perché ti blocchi in mezzo al cacchio sta riflettendo ho capito che sei scarso hai appena iniziato da più o meno mezz'ora installato il gioco poi niente ma per come l'ha fatto cosa hai fatto devi capire Nico che tutto ti uccide i roblox e cos'è che vuoi dalla nostra vita come vai adesso la coli non c'è cosa ne va non tocca tanto se il tocca all'ultimo Nico sì finalmente che cacchio fa scusami ma ti sembra ma perché non devi saltare devi fermarti un attimino un attimino ti devi fermare un attimino Nico dai Nico ci morirà venti volte io lo vedo già nel laser lo vedo già nel laser ecco lo vedevo come fai a morire sempre Nico quanto si muoio ma perché lui è meglio di te cioè si ferma un attimino perché se non ti fermi un attimino perderai sempre Nico guarda arrivo da te così ti faccio vedere vieni devi avvicinarti devi avvicinarti allora ti avvicini e fai il salto devi anche camminare Nico non puoi solo saltare Nico devi camminare Nico devi camminare e saltare Nico devi camminare vai si finalmente finalmente ce l'hai fatta questo è facile è tutto il cobalero lui va bene perché è gioioso Nico per favore non morire guarda che adesso è morto una trappola senza morire Nico ce la fai ce la fai no è il viola cos'è successo è il viola è il viola giallo no viola verde viola verde giallo fai un giallo quella sparisce vai Nico vai Nico quella sparisce no Nico sparisce Nico sparisce vai vai ce la sparisce Nico ci fiondiamo Nico ci fiondiamo come dei pazzi ci fiondiamo senza fermarci si che bello no che bello non sono troppo stupendo no 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 non ci credo Nico basta andare dritto perché devi fermarti stavo dicendo devi solo andare dritto eh no non basta non basta sì qua sparisce vediamo faccio una prova ho fatto una bella prova io non vedo l'ora di arrivare da su Nico se ti fermi in mezzo al cacchio ti giuro che ti giuro la mappa Nico ti banno dalla mappa Nico ti giuro che prendo i programmatori della mappa e ti sbatto fuori come fai a camminare perché cammini ma non puoi camminare non puoi devi saltare saltare e basta mi dici devi devi saltare io non sono arrivato devi saltare Nico ti do di consigli ma devi ascoltare al terzo tentativo io ce l'ho fatta ma lui c'è è già il quinto tentativo sai che lui è la sua prima volta che gioca a Roblox prima volta Nico se cammini tu ti ecco perché muoi ma vedi vedi come si fa salta vai finalmente no sei un mastardo sei un mastardo no 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 cos'è successo Nico non lasciarmi indietro che altrimenti qua moriamo tutte e due guarda guarda lo scivolo Nico come guarda lo scivolo aiuto porca mea porca mea porca mea porca mea Nico devi scivolare scivola scivola Nico scivola scivola Nico vieni però devi scivolare vieni scivola no no il mio bug vedi il bug ti è bossato ti è bossato perché a me non mi scivola più no 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 uiii porca mea porca mea ma cosa devi fare devi risaltare i macchi ah ok no entra guarda che cosa c'è Nico non ce la fai mai 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 ce la fai cosa hai fatto si 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 vai 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 sei un cretino innaio ok sono mio dove è Nico è arrivato dove cacchio è dove è finito no tu sei genio dove sei tutti quanti ci sono riusciti sai che c'è anche vediamo se mi ha scritto ciao Ale c'è c'è anche Nico ciao Ale c'è ciao Ale c'è anche Nico non ce la fa Nico come fai devo venire proprio da te c'hai così bisogno di me che ti faccio vedere come saltare però si ferma Nico lascia lì Nico Nico perché sei andato via Nico Nico è uscito dalla macchina un attimo Ale rientro subito ma devo vedere ma è attivo è su un'altra mappa c'è no come no come no mi unisco lei mi unisco ad Ana Ana ad Ana no 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 Nico 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 sono all'inizio Nico sono all'inizio vabbè Nico senza di te magari riesco a fare più trappole cioè riesco a fare più parkour senza offesa Nico ma veramente hai fatto un sacco di casino più di quanto non ne faceva Ale lo scorso video c'era 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 giallo 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 verde no no mi si è bagato il gioco ma Nico ma Nico non è più attivo non sei più attivo glielo subito Nico perché così non posso capire Nico sei attivo ok non sei più attivo quindi ragazzi questo video può finire è